E' polemica per le cartelle pazze recapitate a molti cittadini dieboli negli ultimi giorni. A segnalare le maggiori criticità è il capogruppo di Forza Italia Damiano Cardiello, che parla di amara sorpresa per gli ebolitani al rientro dalle vacanze. Non si comprendono i motivi di queste vessazioni fiscali, afferma Cardiello, ma la foga fiscale della società di pescare la voglia di batter cassa da parte dell'amministrazione Cariello sta facendo infuriare i più pazienti cittadini. Sono proprio questi ultimi ad essere costretti a presentare le ricevute di pagamento presso gli uffici comunali per richiedere l'allunamento degli atti. Forza Italia non resterà a guardare e continuerà ad opporsi a questi signori.